E dopo più di un ventennio rinnovate le cariche della Proloco di Bivongi, l'Assemblea, tenutosi nei locali della sede di Via Margherita, ha eletto all'unanimità le nuove figure del Consiglio Direttivo e del Presidente. Affidata a Valentina Muraci, la guida del Sodalizio, affiancata da Sergio Coniglio, Vicepresidente, Lara Furina, segretaria, Anna Pisano, tesoriera e sette consiglieri Diego Bucchino, Irene Furina, Ivan Leotta, Marina Riggio, Miriam Panaglia, Rosa Laurenti e Ugo Riggio. Del vecchio direttivo rielette le donne Rosa Laurenti, Anna Pisano e Marina Riggio. La neopresidente ha emesso un comunicato stampa in cui scrive di un'assemblea molto partecipata, aperta dal discorso del Presidente dimissionario Francesco Coniglio, che ha riassunto brevemente gli eventi, gli appuntamenti e gli impegni portati avanti negli ultimi anni. Dopo la lettura e l'approvazione del bilancio 2022 e quello di previsione del 2023 da parte della tesoriera Anna Pisano, si è passati alla votazione. Una votazione unanime, un cambio generazionale, continua il comunicato, che vede la partecipazione di Gioveni Uniti dalla volontà di sviluppare il progetto Bivongi, ricco di eventi, appuntamenti e nuove strategie. Gruppo di giovani, ora confluito nella Proloco, che la scorsa estate ha lavorato all'interno della consulta delle associazioni, organizzando in modo impeccabile la riuscita del mercato dell'abbadia, la manifestazione più importante del Paese, che dopo il Covid-19 ha ripreso il suo cammino. Giovani con nuove idee, che si propongono di puntare sulla promozione del Paese e del territorio, con la collaborazione delle associazioni presenti nella Vallata Stilaro e con i cittadini, residenti e gli emigrati. Soddisfatto, il neopresidente che ha ringraziato i soci per la sua elezione e i componenti del passato direttivo per essere riusciti, tra tante difficoltà, a mantenere quello che il Paese potrebbe essere definito l'assessore al turismo. Ci sentiamo pronti, nella sua dichiarazione Valentina Muraice. Abbiamo idee e voglia di fare e di portare avanti i progetti per Bivongi e il territorio. In agenda ci sono due punti fondamentali, turismo e territorio. Non mancheranno i consigli di appuntamento annali e ci metteremo subito all'opera, in vista della stagione estiva, già alle porte. Il principio cardine che guida il nostro viaggio verso l'obiettivo è, senza dubbio, la collaborazione. Non ci deve essere spazio per individualismi, fazioni, preferenze, conclude il Presidente Valentina Muraice, perché solo insieme e guardando nella stessa direzione possiamo raggiungere risultati significativi. Presente all'Assemblea il Vice Sindaco Giorgio Metastasio, che si è congratulato con i neo eletti e ha assicurato la collaborazione e il sostegno dell'amministrazione comunale di Bivongi.